Se c'è qualcosa che Floriano Chirivisa gestire molto bene è la fornitura di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti e quanto raccontano le inchieste giudiziarie nelle quali è coinvolto negli ultimi dieci anni in provincia di Brindisi e su questo suo ruolo si concentra l'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato in carcere la scorsa settimana con l'accusa di essere stato il grossista di cocaina e hashish per uno dei due clan criminali sgominati dai carabinieri a Casarano con 13 arresti. Sandonaci il paese in cui vive Chirivì e la cittadina del Salento non sono proprio confinanti 75 chilometri che nel corso degli ultimi anni secondo gli investigatori sarebbero stati percorsi da grossi quantitativi di cocaina che veniva poi venduta al dettaglio. Chirivì 43 anni sarebbe stato uno dei collaboratori più fidati di Ivan Caraccio considerato il capo di uno dei due clan che si fronteggiavano a Casarano. Con Caraccio si incontrava di persona per concordare le forniture come più volte filmato dai carabinieri ma poi per le consegne si affidava la moglie che si interfacciava con quella del presunto boss. Il percorso criminale di Chirivì trova le sue fondamenta nella Sandonaci del primo decennio 2000 che si riorganizzava per la successione al boss pentito Gianfranco Presta. Poi i contatti con la malavita di Casarano che non è un inedito negli trecci con la criminalità brindisina e anzi a un padrino d'eccezione a creare le fondamenta dei clan mafiosi di Casarano fu l'ex primula rossa della sacra corona unita brindisina Vito Di Emidio detto Bullone legato al boss dell'epoca Tommaso Montedoro con il quale per anni seminò il terrore proprio nel territorio di Casarano.